Ciao amici, io sono Jim e io sono Kata e questa è... Spicey life! Vabbè, ci siamo capiti. Ben tornati a questo nuovo video, una nuova challenge! La Whisper Challenge! In che cosa consiste questa nuova sfida? Ti metto le cuffie, ascolti la musica sparata a tutto volume. Se baila. E se baila. E io ti dico delle frasi e tu devi indominarle. Ah, ci sto. Chi arriva prima a tre, vince. Hai tre frasi dette giuste? Vabbè, sì. E chi perde? E chi perde? E chi perde abbiamo questo bicchiere, che lo riempiamo con del concentrato di pomodoro, salsa barbecue, Jack Daniels, e... Oh! E il limoncino per amalgamare il tutto! Io spero di indominarle tutte e tre il prima possibile! Spero anch'io! Oddio! Allora, diamo inizio a questa sfida! Oh! Va bene, allora cominciamo! Musica a palla! Facciamo una prova! Luca era gay! Luca era gay! Tutta la lente! Possiamo iniziare! Prima frase! Da domani divento vegano! Ripeti? Da domani... Da domani... Da domani divento vegano! Da domani divento vegano! È giusto! Da domani divento vegano! Ci senti? Mi senti? Mi senti? Va tutto bene? Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace... Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace... Mi piace leccare... No! Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace tanto scorreggiare! È troppo! Che festa! Dai, dai! Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace cadere dalle scale! No! Mi piace tanto scorreggiare! Mi piace tanto... Il Lego! Perso! Mi piace tanto scorreggiare! È troppo alto! È sì, perché non riesci a sentire! Viene contenta! la sera mi metto i vestiti della cata la sera mi metto i vestiti della cata la sera mi piace vestirmi con le calze la sera mi metto i vestiti della cata la sera mi facciano le vestiti da donne la sera mi metto i vestiti della cata la sera mi metto i vestiti da ragazza cosa stai dicendo perché la sera mi piace mettermi i vestiti della cata la sera mi piace mettere i vestiti della cata la sera mi piace mettermi i vestiti della cata non riesco a indovinare non riesco a indovinare mi scappa da cagare ciao cosa stai dicendo non riesco a indovinare non riesco a non riesco a indovinare non riesco a indovinare mi piace odorare i miei peti mi piace odorare i calzini mi piace odorare i miei peti 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 ma il mio petito sono culo avrete una mentina che mi puzza all'alito ? Ciao sono culo avresti una mentina che mi puzza l'alito? Ciao sono Giulio? No, ciao sono culo avresti una mentina che mi puzza l'alito? Ciao sono culo avresti una pastiglia per il male al caldo? Ciao, sono culo, avresti una mentina che mi puzza l'alito? Ciao, sono Giulio, avresti una pastiglia contro l'aglio? No. Ciao, sono culo, avresti una mentina che mi puzza l'alito? Ciao, sono culo, avresti una pastiglia al posto dell'aglio? No. Ciao, sono culo, avresti una mentina che mi puzza l'alito? La mia ragazza mi può tradire con Valentino Rossi? La mia ragazza mi porta a mangiare il minestrone? La mia ragazza mi può tradire con Valentino Rossi? La mia ragazza mi porta a cena tutti i giorni? La mia ragazza mi può tradire con Valentino Rossi? Mi porta a cena ogni 20 giorni? La mia ragazza mi può tradire con Valentino Rossi? La mia ragazza mi può tradire con Valentino Rossi? L'ha detto! Con Valentino Po! Grande Rossi! Si fa per dire però, eh? L'ha detto, l'avete sentito tutti! Valentino Po! Preferisco mangiare con i piedi! Preferisco... Preferisco mangiare con i piedi! Preferisco mangiare una merda! Questo non lo so! Dimelo tu! Preferisco mangiare con i piedi! Preferisco mangiare con i piedi! Si! Ho dovuto dirlo, tutti nemmeno sapere! Ogni tanto è più comodo! Mi farei Jacopo dei Pantellas! Preferisco il sugo alla minestra! No! E c'è la costa a minestra! Mi farei Jacopo dei Pantellas! Voglio guardare Dragon Ball! No! Mi farei Jacopo dei Pantellas! Voglio il pollo con le patate! Mi farei Jacopo dei Pantellas! Dopo ti do la pastella! No! Mi farei! Preferirei! Mi farei! Perché? Mi farei! Preferire! Mi farei! Farei! Venire! Fare! Fare! Mi farei! Preferare! Mi farei! Preferiresti! Mi farei Jacopo! Dragon Ball! Dei Pantellas! Della Black Dance! Pantellas! Pasta gratis! Pantellas! Preferisco Dragon Ball o la pasta gratis! Stop! Pasta no! Che cazzo stai incinando! Mi farei! Mi farei! Che cazzo stai incinando! Perché dici questo? Che cazzo stai incinando! Che cazzo stai incinando! No! No! Ieri ho visto un pazzo! Si sta passando la musica! Ieri ho visto un pazzo! Ieri ho visto un pazzo! bene allora ho perso anche questa e va bene lo facciamo arriverà il momento che incomincerò a vincere tutte mettiamole proprio un goccino perché un cincinino di triplo concentrato mozzi un oncio a un oncio e mezza di jack daniel barbecue sauce che è molto buona ma sulla carne che buona è buonissima e poi con cosa amalgamiamo? amalgamiamo con del super limoncello grande grande non vedo l'ora aspetta aspetta mescoliamo tutto mescola 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 ragazzi voi dovete sapere che prima dell'inizio della sfida non mi piaceva tanto il grano no perché mettiamo il concentrato la salsa barbecue un liquore al caffè limoncino ho detto guarda il liquore al caffè ditiamolo no no deve essere schifosissimo non aveva fatti conti quella realtà quella realtà che io scambisco meglio la mia idea bucciarlo intanto prima che tu muori vivendo questa cosa salutiamo gli amici a casa mi raccomando se il video vi è piaciuto mettete tantissimi pollici in su condividete iscrivetevi al nostro canale se volete vedere ancora le imprese da eroe di gym se arriviamo a 100 like se lo beve anche lei uno guarda ma se arriviamo a 200 like me lo bevo anch'io dai a 200 like se lo beve anche lei va benissimo loser ma perchè lo fa? è stata una sua idea è stata una Athlete noo ma chiedi qua 200 like ai 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 vedo dei residui è stata una forza dai una la prossima challenge? basta challenge perchè tutto si aggiusterà perchè ho trovato un modo di imbrogliare e non ho ancora capito quale vorrete partecipare con noi a qualche challenge dai vieni a giocare con noi